Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovo episodio di Maintest Ita! Siamo rimasti qui, allora io ho tentato a lungo di restare a FK per vedere se per caso si formava dell'erba là, ma non l'ho vista formarsi. Quindi temo purtroppo che abbiano cambiato qualcosa quindi non funzionerà, non potremmo avere un tappetino erboso qua perché è un po'... non funzionerà. L'unica cosa però guardavo che possiamo fare una Dirt with Grass con Jungle Grass e Dirt, ma noi non abbiamo nessuna delle due. No, cosa dico? Non abbiamo la Jungle Grass più che altro. Ah, possiamo fare una Fake Grass? Ma Fake Grass è un blocco finto quindi dovrebbe essere calpestabile. Cioè non dovrebbe essere calpestabile. Con un blocco di mese magari anche no. Magari anche no. Jungle Grass. Jungle Grass dovremmo trovare una giungla ma... Non ne ho viste in realtà, quindi direi di no. Allora, si potrebbe mettere effettivamente un pochettino di legno, come ci suggeriva il nostro caro amico commentatore video. Magari già del legno della giungla che abbiamo qua con noi. Secondo me può essere una buona idea il legno della giungla. Non so se metterlo anche qua nella zona del... Sì, proviamo. Male che vada, sostituiamo. Allora, ho una mezza idea di fare una striscia tutta intera, così, di legno e poi accompagnarla sopra con una striscia di foglie. Ora non mi ricordo se le foglie despownano subito se piazzate da un'altra parte o se despownano solo se per caso non c'è del legno. Mi auguro che non despownino perché potrebbe essere una bella idea effettivamente quella di mettere delle foglie oppure della mossi cobblestone. Il discorso è che la mossi cobblestone richiede un po' di lavoro in più, giusto un pochettino. E quindi, visto che non abbiamo una farm di mossi cobblestone, che magari potrebbe essere un'idea andare a fare nel prossimo futuro, le foglie sono l'opzione più fattibile, forse. Allora, io direi che possiamo anche sfruttare il teletrasporto qua per tornare a casa rapidamente e non fare tutte le scale. Ovviamente è notte, tanto per cambiare. Abbiamo anche quasi finito le torce, bisogna fare un po' di torce qua. Perché non è una buona idea restare al buio. Allora, qua, qua, qua. Cosa volevo fare? A parte riparare un pochettino il piccone, che non è mai una cattiva idea. Attiviamo un po' questo un paio di volte per recuperare dell'energia. Attiviamo la World Encore così. Oh, era disattivata. Strano. E niente. Allora, rimettiamo questo a posto. Qui abbiamo un po' di mese da sistemare. Via. Qui. Ok, 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 qua arriva. Sì, supply 1200, ok, questo è stato riparato. Delle foglie. Allora, delle foglie direi che ci conviene... Via di corsa. Ci conviene venire qua e prendere queste. 54 forse non sono sufficienti, però ne abbiamo anche 15 qui. Vediamo un po' come si comporta il discorso. Si, andiamo. Il legno ne abbiamo. Poi vabbè, il legno l'abbiamo già messo in realtà, quindi per il legno dovremmo essere a posto. Vediamo se si riesce a fare magari un giro sopra con le foglie, per l'appunto. Polo Nord. Allora. Tiriamo dentro la casetta. E c'è da fare tutta la salita. Tra l'altro ogni tanto si buga e non so come mai. Vorrei ricordare nel frattempo, visto che ne approfitto per parlare mentre stiamo salendo le scale, così ho qualcosa anche da raccontarvi. Ricordo tutti sia del canale Telegram che del canale Discord che vengono utilizzati entrambi. Il canale Discord tra l'altro ultimamente l'abbiamo utilizzato alcune volte per ritrovarci il mercoledì sera. La prima volta è stata per un multiplayer di Maintest che tornerà. Faremo poi altri incontri tra di noi sul server di cui avevamo fatto, insomma, su cui avevamo fatto in pratica l'altro raduno, diciamo così. Però magari tra un attimo, quando avrò finito la sessione esami, allora, vorrei solo essere sicuro che non disponino le foglie prima di piazzarle tutte. Quindi ne metto magari un paio, così. Non sembrano sparire. Posso provare a piazzarle. Ovviamente ho tolto le torce, così facendo. Ah, e forse su queste tra l'altro non si possono neanche poggiare le torce, se non ricordo male. Vedremo, se non si possono poggiare le torce può essere un po' un problema. No, ma in realtà no, perché c'è un sacco di illuminazione, quindi non è un grave problema. Qua siamo proprio al pelo dietro la terra alla fine della collina. Speriamo che bastino le foglie. Sì, forse in questa zona qua, dove dietro c'è la terra, sarebbe meglio la mossi cobblestone. Però non abbiamo la possibilità ora di utilizzarla, quindi... Anche di qua rischiamo, eh. Siamo proprio giusti, giusti. Un po' di mossi cobblestone ci starebbe proprio bene. Però è un po' da farmare, quindi... E quindi ci va... Tempo. No, ridammela. Vediamo se effettivamente... No, si possono mettere sulle foglie. Ok. Non so come mai mi ricordavo che non si potessero mettere. Ne ho messo una addirittura sulla porta. E... Niente. Quindi direi che per ora possiamo lasciarlo concluso così. Tra l'altro questa qua sul corridoio trasparente mi piace come idea. Come layout, ecco, che si veda tutto dentro, anche così. Sembra proprio tipo una piccola serra. Sul soffitto però non ci metterei niente. Il soffitto lo lascerei così di terra, cioè di roccia. Poi che dite? A me piace così, anche se è basso e tutto, ma alla fine è tipo una... Una serra che abbiamo sotto il rifugio, quindi... No, poi comunque non posso sostituirlo, perché qui c'è subito il... La fine della collina, quindi non posso comunque sostituirlo il tetto. Non posso metterci altro, altrimenti si vedrebbe da sopra. E... L'unica cosa è magari mettere la punto della mossi cobblestone e... Direi che possiamo procedere al creare una sorta di... Farm. Non la chiamerei tanto farm, perché non è poi una farm, ma... Un modo per avere un pochettino più di mossi cobblestone. Non la chiamerei farm più che altro, perché non sarebbe per niente automatico. Voglio fare solo una piccola... Pozza. Ma magari posso sfruttare effettivamente qua l'acqua che c'è. Tanto questi mi danno solo... Hanno bisogno solo di... Acqua ogni 9. Io farei così, in modo che poi dopo non devo... Ripiazzare l'acqua. Perché resta comunque infinita. Allora, facciamo così... Cosa? Lasciamo tutto un po' a bagno. Ne lasciamo un po' e poi magari resto a FK nei prossimi giorni. Prossimi episodi... Perché è così... Profondo? Perché è profondo 2 qua? Non mi ricordo mica. Beh, però potrei effettivamente approfittarne per vedere se riesco a farne 2 in contemporanea. Così. Così. Cosa? Non è l'idea migliore... Una casa... Un... Tipo un piccolo edificio... Un edificio fatto a dungeon. Potrebbe essere una bella idea. Qui nei dintorni... Che sia sempre... Con la mossi cobblestone... E se uno ne ha bisogno va a raccoglierla... E basta. Però... Si, era un po' glitchato. Però ci va... Dovrei pensare a un design... E magari... Magari potrei utilizzare della mossi cobblestone per fare quel design... E... Ora come ora non ne abbiamo, quindi... Facciamo una cosa per volta. Finiamo questo e poi... Tra l'altro c'è ancora un buco qua dietro. Ovviamente non avrò dietro delle fence di quel tipo. Sono delle fence di... Pino? Ricordo male? Ehm... Si. Cioè no. Non ricordo male. Ricordavo bene. Allora qua togliamo sta terra che non mi serve. Potrei metterne anche là di... Si. Sfruttiamola. Allora va visto che c'è il laghetto. Tanto là una volta che tolgo il blocco poi l'acqua si riforma perché... L'ho messo in modo che resti sorgente infinita. Detto ciò, detto ciò, detto ciò, detto ciò, detto ciò, cosa volevo fare? No, dobbiamo prendere la fence di pino per andare a riparare quel pezzetto in fondo. Eccolo qua. Una ci serviva, no? Mi auguro. Allora, facciamo tutto il giro un po' rapidamente. Già che siamo... Qui... Già che siamo qui. Vediamo, 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 vediamo. Tra l'altro stavo pensando l'altro giorno che non abbiamo più fatto la farm automatica di cactus e di canne da zucchero, anche se non si è rivelata effettivamente così necessaria quest'anno. Cioè quest'anno, questa stagione. Perché... Non abbiamo neanche usato i cactus. Ah, perché abbiamo i fagiolini. E i fagiolini ci danno il colorante verde effettivamente, se non ricordo male. Allora, il cactus ci dà, vabbè, la piantina di cactus. Il cactus brick, il color verde, che però ci viene dato appunto anche dei fagiolini. Quindi, questi altri blocchi qua, niente, quindi... Dalla jungle grass, dalla grass... Eh sì, green beans. Ma il cactus ce ne dà molto di più dei fagiolini. Per i fagiolini sono più facili da raccogliere, perché ognuno di quello ci dà un fracco di fagiolini. Quindi, mi sa che è più conveniente. Oh, sempre con sta storia, che si può dormire solo la notte. È nottissima, guardate. Non abbiamo poi mai fatto le torte con le bacche, alla fine. No, forse nella scorsa stagione una volta sì, ma non mi ricordo più. È passato tanto tempo. E... Ah, i divani. Qualche storie. Le poltroncine. Divani anche non abbiamo mai fatto. Credo che ci siano varie cose della home decole che non abbiamo mai fatto. Tipo... No, beh, però in questa stagione abbiamo fatto molte più cose della home decole che non in passato. Sì, ci sono alcune cose che sono un po'... Ma questo può essere interessante ad aggiungere al... 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 Rifugio alpino. L'unica cosa è che su quei tavolini che abbiamo messo in sala non ci sta bene, perché sono un blocco più in alto, quindi sarebbero tipo sospesi nel nulla. Se non ricordo male, avevamo provato anche con le bottiglie di birra, a vedere un po' come stava il discorso, ma... Non stava per nulla bene. Perché queste e le gambe sono il primo blocco, diciamo. E poi il top, il sopra delle gambe, è come se fosse un altro blocco. Quindi se tu vuoi mettere il piatto, questo qua, viene ancora un blocco sopra e quindi sembra che sia sospeso, perché ci sono tipo... Lo 0,8 del blocco che è... È vuoto. È vuoto, non c'è niente. Andiamo se per caso qualcosa si smuove. Secondo me no. Secondo me non si fa niente in così poco, perché ci va un sacco di tempo. Invece no, guardate che storia. Una c'è già. Ah, questi sono anche due, quindi bisognerebbe guardare sotto... Eh, oh, ma c'è. Perché ho deciso di farlo profondo due questo? Non lo so. Qua niente, qua niente. Forse era solo quello là all'inizio. Ma perché... Poi funziona tutto con i tick... Ah no, anche qua. Con i tick, come in Minecraft, se non ricordo male. Quindi c'è un tot di probabilità che si aggiorni il blocco, ma non è... Costretto ad aggiornarsi. Ovvio, più ne metti, più è probabile... Scusate, sono un po' stanco stasera, ma... Infattivamente la sessione esami mi sta provando abbastanza. Dicevo, ovviamente più cenai, più è facile che uno di questi si aggiorni. Meno cenai, meno è facile che si aggiorni. Però non vuol dire che si aggiornano più facilmente. E' una questione di grandi numeri, ecco. Perché se hai... Com'è che ne so, prendere un biglietto alla lotteria? Se compri un biglietto hai meno possibilità che non comprando 700 biglietti. E quindi, allo stesso modo anche qua, con... Perché ho chiuso la porta? Boh, certo che ho dei problemi strani. Con 700 biglietti hai più possibilità, e quindi con 700 pezzi... Di cobblestone abbiamo più possibilità che non... Con uno soltanto. Allora, mi sa che qui ci sarà da aspettare un pochettino per farmare qualche blocco in più. Perché ce ne sono solo... Ce... Ce ne sono solo cinque. E per averne una ventina, almeno, credo che ci servono. Bisognerà aspettare un po' off camera. Io direi che quindi per questo episodio può essere tutto. Io vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace, un commento qui sotto. E iscrivervi al canale, se per caso non lo avete già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, sabato prossimo. Buona giornata a tutti. Ciao!